Musica Buonasera e benvenuti al TG Prato, Roberto Cenni ha sciolto le riserve, si ricandida a sindaco di Prato, l'annuncio ieri sera durante una cena al Sacro Cuore guiderà una lista civica, Milone correrà con una sua lista, ma sempre a sostegno della candidatura di Roberto Cenni. Freddezza nei confronti dei partiti, serata seguita per noi da Nadia Tarantino. Che mi handido! Roberto Cenni tenta il bis, ieri sera la cena organizzata dall'Associazione La Prato che Vorrei ha sciolto la riserva, poche parole, quelle che il centro-destra aspettava da mesi e che sono state pronunciate davanti a circa 100 persone, molti imprenditori e professionisti e nessun partito. Cenni corre con una sua lista civica, c'è già il nome, c'è già il simbolo, Prato con Cenni. Capire quali erano le intenzioni con le quali si sono mosse per fare la lista civica e nella maniera dal punto di vista mio di dargli appunto conferma che di fronte al loro impegno, di fronte all'impegno della città, di rappresentare dei bisogni, non è che in questo momento mi tiro indietro. Pochi politici accanto a Cenni, Fulvio Ponzuoli, Gianni Cenni, Maurizio Bettazzi, con loro Aldo Milone che ha annunciato di candidarsi con la lista civica Prato Libera e Sicura, sarà capolista e lavorerà per la riconferma di Cenni, Dante Mondanelli e Annalisa Nocentini. Nuovo aeroporto di Peretola e città metropolitana, i due simboli di questa campagna elettorale. Io vorrei sapere quale mentalità contorta può pensare di piazzare un aeroporto in questa piana, è veramente una follia. Se si deve giocare a bambuccioni, giochiamo a bambuccioni, ma se si deve prendere le osse sul serio, che la città metropolitana, che qualcuno possa pensare a Prato, di desiderare di diventare la periferia della periferia della città di Firenze. Bordate ai partiti. Non ho assolutamente voglia di fare o di rimettere insieme un'alleanza per vincere, ma un'alleanza per governare. Non ho patito abbastanza la fatica di dover tutti i giorni cercare di rimettere insieme persone che non appena sono state elette da una parte, poi hanno preso e hanno deciso di cambiare. Chiaro il messaggio al nuovo centrodestra. Qualcuno può essere anche contrario alla pista e peretola, però in regione lo stesso partito poi vota. E se questo pensa che sia l'interesse di Prato, va benissimo, il nuovo centrodestra li porta avanti, saremo su due cose diverse. E alla cena c'è stato, secondo Forza Italia, un incidente diplomatico, perché mancavano i propri assessori. Lo definiamo un incidente di percorso, ha detto Mazzoni, ma Cenni deve riconoscere il ruolo del nostro partito, mentre ormai l'alleanza con il nuovo centrodestra sembra impossibile. Magnolfi dice non seguiamo Cenni sulla via del qualunquismo. Ancora Nadia Tarantino. È stato bollato come un incidente di percorso, ma certo non ha fatto piacere a Forza Italia non essere presente all'annuncio di Roberto Cenni, che ieri sera ha detto di essere pronto a scendere in campo per provare a mantenere la carica di sindaco. Si contavano sulle dita delle mani i volti noti accanto a Cenni, un consigliere comunale, l'ex presidente del Consiglio Comunale e quattro assessori, nessuno di Forza Italia. Noi pensiamo che un sindaco che si ripresenta nel momento in cui annuncia ufficialmente la sua ricandidatura debba avere al suo fianco tutta la coalizione e non solo la sua lista civica. Questo però credo che interessi molto poco ai pratesi, è un piccolo incidente di percorso che non inficia in nessun modo il nostro giudizio sull'operato di Cenni e della sua giunta. Roberto Cenni non solo ha chiarito che le assenze non sono state frutto di un disegno predefinito, ma ha anche riconosciuto a Forza Italia l'assoluto valore all'interno della maggioranza. L'apporto e l'appoggio durante questi cinque anni da parte del maggior partito che è Forza Italia. Non voleva essere assolutamente una negazione di ruolo. Patti chiari e amicizia lunga. Siamo il partito che ha garantito l'elezione di Cenni cinque anni fa con il 33% e anche oggi senza voto di Forza Italia non ci sarebbe nessuna possibilità di contrastare un ritorno della sinistra al governo della città. L'annuncio di Cenni, che non ha nascosto una certa apatia nei confronti dei partiti e di uno in particolare, ha sancito il divorzio con il nuovo centrodestra. Oppure Roberto Cenni divorzia da se stesso, nel senso che la strada che sta prendendo ci sembra molto diversa rispetto a quella di cinque anni fa. Noi avevamo chiesto, l'abbiamo chiesto per mesi, che ci fosse un tavolo, una possibilità dove ridiscutere un progetto per il futuro di Prato. Questo tavolo non si è neppure aperto, non si è discorso del progetto, probabilmente ce l'ha in testa lui. Lasciamo la politica, parliamo di occupazione. ASM, Comune di Prato e organizzazioni sindacali hanno siglato un protocollo di intesa che prevede l'assunzione diretta e indiretta di ben 40 persone. Nadia Tarantino. Porta a porta i servizi di manutenzione sul territorio creano posti di lavoro. Dal 2009 un centinaio, altri 40 tra lo scorso anno e quest'anno. Stamani nella sede di ASM, l'azienda che si occupa di rifiuti, è stato siglato un protocollo di intesa con il Comune di Prato e con le organizzazioni sindacali che punta a nuove assunzioni. 15 nel 2014, 25 quelle già fatte nel 2013, per mezzo dell'estensione del porta a porta a tutto il territorio comunale entro i primi sei mesi del 2015. Riferimento alle situazioni nazionali che non inducono sovente all'ottimismo e poter dare una notizia che ASM con il suo modello industriale genererà posti di lavoro in continuità con un percorso iniziato sin dal 2009 è una gran bella notizia. Anche perché il modello adottato del porta a porta trova il pieno gradimento della popolazione dove viene portato, anzi c'è una richiesta di anticipare quella che è la pianificazione. Il protocollo di intesa è stato siglato oggi alla presenza del sindaco Roberto Cenni che ha spiegato che pur nella complessità della congiuntura e delle normative che regolano le società che sono di diretta emanazione pubblica, è stato possibile lavorare per l'incremento dell'occupazione. Dal 2009 a oggi è cambiato molto per questa azienda, ha detto abbiamo rinunciato alla realizzazione dell'inceneritore a Casale e questo ha obbligato a un maggior impegno sulla raccolta differenziata che si è tradotto con l'estensione del porta a porta. Soddisfazione è stata espressa dai sindacati. Questo protocollo di intesa è importante perché mira a potenziare un servizio fondamentale per i cittadini ma si propone anche di creare posti di lavoro. Riteniamo che il nostro ruolo di tutela e di rappresentanza si possa completare se contribuisce a creare le condizioni per nuovi posti di lavoro. Quando il gioco non è più un gioco. Si è parlato di ludopatia al convegno organizzato stamani in provincia, presenti tantissimi studenti del Datini. Vediamo. La battaglia contro la ludopatia inizia tra i banchi di scuola. Stamani i protagonisti del convegno sulle dipendenze dal gioco che si è svolto nel salone consigliare della provincia di Prato sono stati gli studenti dell'istituto professionale Datini di Prato. Sempre più adolescenti infatti hanno problemi di dipendenza da slot machine, gratta e vinci e il problema non riguarda solo i cinesi. Secondo lo studio realizzato dal progetto Alea, finanziato dalla regione toscana, su 250 studenti intervistati fra i 17 e i 20 anni è emerso che... C'è un qualche fenomeno da tenere sotto controllo piuttosto preoccupante che è quello che non c'è molta conoscenza rispetto al gioco d'azzardo. Innanzitutto non si conosce, ma questo è un problema comune anche con gli adulti, non si conosce i reali rischi connessi al gioco d'azzardo. Per quanto riguarda i giovani abbiamo notato che c'è una crescita del gioco online e questo è pericoloso perché sull'online, sul web è difficile porre alcun tipo di controllo. Il giocatore tipico della comunità cinese è invece un operaio, ma ci sono anche gli imprenditori, per lo più maschi. I soldi destinati al gioco crescono, arrivano in alcuni casi a 100 euro al giorno e per gli imprenditori fino a 10.000 euro a settimana. Molto diffuso il tipico gioco cinese Mayong, anche in versione online. La situazione è allarmante a Prato perché i cittadini cercano nel gioco una risposta alla crisi del distretto tessile in modo da mantenere lo stesso tenore di vita. Cambiamo argomento, a Montemurlo il primo maggio si festeggia ballando la pizzica. Quest'anno a Montemurlo il primo maggio si festeggia a passo di pizzica. Comune CGL Cisle Will e il gruppo Ballo Spettacolo hanno deciso di continuare lungo la strada della festa di piazza. L'iniziativa di quest'anno si intitola Lavoro in Ballo con tutti i colori del mondo. Un'occasione di riflessione sui temi del lavoro, ma anche un momento di ritrovo e divertimento per rendere il primo maggio più attrattivo, soprattutto per i giovani. E così dalle 15.30 tutti in Piazza della Libertà per ballare la pizzica di gruppo. Danza molto coinvolgente che ha un forte legame con il Mediterraneo e le sue culture. Altro obiettivo della giornata di festa, infatti, sarà proprio l'integrazione e il lavoro in un mondo sempre più globalizzato e multiculturale. I dibattiti della giornata saranno incentrati su questi temi. Il ballo è il mezzo per poi riportare a discutere dei valori importanti come sono quelli dei diritti, del lavoro che non c'è, nel mondo globalizzato e nello stesso tempo anche un metodo e un modo anche di uguaglianza che è importante in una società globalizzata come questa bisognerà portare avanti. Quindi è un problema anche culturale per noi importante. Chi non sa ballare la pizzica non si arrenda perché gli organizzatori hanno pensato proprio a tutto. Sono previste quattro prove gratuite aperte a tutti per mettere a punto la coreografia il 4 aprile alle 21.30 alla Sala Banti, l'11, il 18 e il 29 aprile alle 21.30 al Centro Giovani. L'ultima sera è prevista anche la consegna delle magliette rosse, simbolo dell'iniziativa. Il sindacato, pur rimarcando ovviamente il valore del lavoro e della festa del primo maggio e quello deve essere il faro della giornata, non può che essere contento se c'è anche una parte ludica per coinvolgere più persone e per stare piacevolmente insieme in quella giornata. Stasera e domani sera al Politeama Pratese, medici in concerto per beneficenza. Lo spettacolo si intitola Ciak si risuona ed è realizzato dall'associazione Onlus il futuro di Giulia insieme a Rotary Club Lippi di Prato. Goffredo Gori. Ciak si risuona, si risuona per dire che si fa ancora una volta uno spettacolo a scopo di beneficenza. È il 28 e il 29 al Politeama Pratese e sono per l'appunto soprattutto dei medici, medici musicisti che offrono questo spettacolo. Siete qui questa sera al Politeama perché siete medici o perché siete musicisti? Per ambedue le cose, perché lavoriamo in ospedale, inoltre il problema ci interessa molto questo problema e attraverso il futuro di Giulia e quest'anno il Rotary, sezione Filippino Lippi di Prato, abbiamo deciso di fare questa serata il cui ricavato andrà all'Ageop dell'Associazione Genitori e Oncologia Pediatrica del Sant'Orsola di Bologna. Quindi per beneficenza si suona, si balla anche perché c'è tante persone, c'è cori anche, ma Ciak si rigira, si rigira perché si rigira? Si rigira, si risuona, perché questo è il remake di uno spettacolo, di un format che abbiamo già presentato anni addietro, naturalmente aggiornato, dove uniamo clip di film a colonne sonore, nel mezzo ci saranno anche balletti, ci saranno anche delle poesie recitate, sempre e comunque tutto a tema. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.